Scontro nelle zone alte della classifica, quello che si disputa nella ventunesima giornata di promozione girone B tra Bogliasco e Molassana. Prima occasione dopo appena tre minuti per i padroni di casa con Ballari che calcia molto bene ma Carlucci gli nega il gol. Risponde il Molassana dopo due minuti con Venturelli, calcia d'esterno al numero 11 ma la sua conclusione termina larga. Si sblocca al settimo minuto la gara, palla col contagiri di Venturelli, Costa sbuca dietro a tutti e in allungo segna il gol dell'1-0. Vantaggio che dura appena due giri di orologio perché da corner ancora Ballari anticipa tutti e segna il gol del pareggio. Prova a tornare immediatamente in vantaggio al Molassana ma la conclusione di Venturelli termina larga di pochissimo complice a una deviazione. Sul corner seguente ci prova ancora Costa ma non trova lo specchio della porta. Nella ripresa la prima occasione arriva sui piedi di Costa dopo appena 30 secondi che calcia al volo ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Ancora un'occasione per il Molassana con Mereto che svetta più in alto di tutti ma Gian Rossi gli nega il gol con uno splendido intervento. Reazione Bogliasco che dal via allunga Ossedio e la prima occasione per i padroni di casa arriva su punizione con Moretti che vede la sua conclusione infrangersi sull'incrocio dei pali. Ancora su punizione ci prova il Bogliasco questa volta con Cappelletti che calcia alto. L'ultima occasione del Molassana con Broso che riceve da Venturelli e calcia ma non riesce a coordinarsi per bene e la sfera termina lontana dalla porta. Dopo 4 minuti di recupero termina 1-1 lo scontro tra Bogliasco e Molassana.